A tre anni dal 18 marzo 2020 il Comitato Sanità Pubblica Versilia Massacarrara insieme al Comitato Io Non Ci Sto Firenze, Ogni Giorno del 1 maggio Firenze, Cobas Pisa, Rete Tanta Salute a Tutti Milano, Medicina Democratica, Riconquistiamo Tutto e Asso Confam si sono dati appuntamento di fronte all'ospedale Versilia e al NOA di Massacarrara per effettuare un presidio per ricordare gli operatori e le operatrici sanitarie vittime del Covid-19. Perché? Perché oggi? Perché oggi la ricorrenza della morte di quasi 3.000 lavoratori che sono morti durante il Covid-19, noi aggiungiamo che sono morti dal lavoro e per il lavoro. Altro aspetto è l'aspetto del non dimenticare, però vedete per noi non dimenticare non vuol dire soltanto ricordare i lavoratori che sono morti, vuol dire anche cominciare a mettere al centro le ragioni perché di queste morti che sono legate a un processo di smantellamento della sanità pubblica. Proprio per sostenere questa iniziativa, che si è svolta in molte città italiane, sotto la parola d'ordine, uniti per non dimenticare, molti operatori si sono messi un fiocco azzurro sul camice o sulla giacca. Durante il presidio è stata inoltre sottolineata l'importanza di procedere al più presto a nuove assunzioni di personale, al fine di garantire una sanità pubblica universale e solidale.